questo non è non è tardi per seminare i pomodori ma qua sotto che c'erano che era piantato a qua c'erano le fave piselli perciò ma abbiamo tolto le fave piselli cioè anche se siamo in ritardo però comunque abbiamo ricavato lo spazio per fare un'altra semina di pomodori e tutte le fave piselli che fate le hai messe sotto quindi hai sradicato tutte le fave piselli le hai messe le hai sradicate le hai messe sotto cioè hai zappato e le hai messo sotto questa terra adesso tiriamo le linee e adesso poi continuo io e adesso faccio io però fammi vedere bene come hai fatto che non voglio sbagliare vabbè diciamo non affondi non affondi molto la zappa un po e chi sa se crescono questi questi pomodori un po di acqua in più ci mettiamo vicino ogni giorno e cresce la linea storta come sto andando è ma cosa è morso e Ah, questi sono i pomodori che hai preso dal semenzaio dell'orto. Hai fatto il bagnetto nel fango. Che stai facendo? Sto mettendo il teto per preparare. Ah, prepari i pomodori da seminare, da piantare. Io poi faccio il buco, cioè poi li pianto io. Vai così facciamo più in fretta. Tu posizioni tutti i pomodori dove devono essere piantati, io faccio il buco, poi pianto i pomodori e tu passi l'acqua e contemporaneamente poi continui a tirare le linee. Quindi in due, nel giro di poco tempo, il lavoro viene fatto molto in fretta, va bene? Sotto la terra zappata possiamo notare le fave di cui parlava prima mio padre, che servono come concime. Grazie.